Oggi un interessante convegno, Salerno, le nuove sfide per la città del futuro. Quali possono essere i progetti per il futuro di Salerno? Innanzitutto dobbiamo impegnarci nel completare quanto programmato negli anni scorsi, quindi la riqualificazione urbana, il nuovo fronte di mare e lanciare definitivamente Salerno come città turistica a livello nazionale e internazionale. Una delle sfide più importanti sarà proprio l'attrazione di un maggior numero di turisti stranieri. Poi c'è la sfida della logistica, ad esempio, noi abbiamo fatto una battaglia nelle scorse settimane per l'autonomia del nostro porto commerciale, abbiamo una dotazione logistica importante per una città media, porto, alta velocità, reti autostradali, stiamo lavorando per la creazione di aree retroportuali, nel patto per il sud, nel patto per la campagna, ci sono anche 300 milioni per le zone economiche speciali nelle aree retroportuali di Napoli e Salerno. C'è tutta una serie di attività che stiamo ponendo in essere. Ovviamente non si tratta solo di completare le infrastrutture fisiche, ma anche di dare un'organizzazione e di offrire servizi. Penso ad esempio al Polo Agroalimentare, che è un'altra struttura importante, che noi dobbiamo riempire di contenuti, di servizi e di offerta per porre sempre di più Salerno come un attrattore, per un driver in termini di area vasta. Io sono fermamente convinto che ormai il destino di Salerno in positivo sia quello di diventare davvero il comune capofila di un'area metropolitana di un milione di abitanti, che è la nostra provincia. Grazie ai trasporti, grazie all'alta velocità, le distanze si riducono, quindi ci sono tutte le condizioni per questa prospettiva di sviluppo. Sono importanti i fondi europei, sono importanti i fondi dei privati, che è un'altra grande sfida, cioè quella dell'attrazione degli investimenti, di cui in alcuni casi si parla troppo poco. La cosa fondamentale però non è tanto quanti fondi abbiamo, da dove provengono. Il problema è che non a Salerno, ma in tante realtà del sud ad esempio, è mancata la strategia, è mancata la progettualità, la pianificazione, quindi non dobbiamo focalizzarsi solo sull'offerta di risorse, ma dobbiamo organizzare la domanda, dobbiamo organizzare progetti per creare strutture, infrastrutture materiali e immateriali che possano davvero portare non a cattedrali nel deserto, ma a strumenti per lo sviluppo del territorio.